ciao ragazzi bene allora ripartiamo da dove c'eravamo lasciati e cosa intendo per questo intendo che non so intendo intanto che non so se ce la posso fare con questa esuberanza di affettuosità allora perché prima di far iniziare con i miei video che vi stavo facendo su quella che quale è l'importanza di poter studiare cinofilia e utilità che possono avere i cani da guardia nel vivere più serenamente la nostra proprietà singola con giardino mamma mia che bestione che c'è qua vorrei vorrei se lei mi lascia se lei mi lascia fare questo video è una grossolana che io adesso la dovrò mettere in castiglio dirvi due parole di quale sono le conclusioni che io tratto da questo viaggio che ho fatto sulle montagne dell'atlas alla ricerca non so se c'è alla ricerca del cane aborigeno dei berberi perché ho accettato questa proposta e adesso sono contento di essere andato che mi ha fatto il mio amico daniele che da anni voleva fare questo viaggio che in teoria non aveva niente a che fare con lo studio io ho fatto in tutti questi anni sul pastore dell'asia centrale che è un po questa razza che io allevo e tanti altri cani da greggio avevo una convinzione che ce l'ho ancora però mi è stata rafforzata che tutti i cani da greggio derivessero dall'asia centrale ma questa convinzione mi veniva offerta dal fatto che tutti i cani che a un certo punto si sono avvicinati al bestiame hanno iniziato avere questo rapporto con l'uomo che in qualche modo anche questa utilità nel poter proteggere quelli che erano gli animali che lui aveva allevato in questi anni ma non centinaia di anni addirittura migliaia di anni ne ho avuta la certezza mi sono portato a casa quale contenuto veramente importante che laggiù dove esiste un ambiente e questo ambiente ecco questo è l'ambiente che io e tua casa mia i cani che non mi rispettano per niente poi le femmine io non riesco a farmi rispettare dalle femmine neanche da quelle umane allora praticamente dove c'è un ambiente ci sono delle usanze ci sono dei costumi ci sono delle esigenze cioè a una certa altitudine ci sono i pastori che allevano il bestiame e non solo ci sono i boschi c'è una certa vegetazione ci sono dei predatori indipendentemente da quali e come sono fatti pian piano il pastore o l'uomo ha capito che determinati cani li potevano essere utili per poter proteggere il bestiame non ne ha stabilita una morfologia come tanti vogliono far credere no perché seguendo questo principio sacrosanto biologico che è il territorio che modifica la genetica si sono uniformati tutti in tutto il mondo di standard tant'è che io in marocco che l'africa del nord ho trovato gli stessi cani uguali identici ai cani aborigeni che io trovo nei miei viaggi dell'azia centrale quindi questo per sottolineare una cosa molto ecco un'altra botta molto importante che laggiù dove io creo un ambiente ovvero ho bisogno di cani lavoro che mi facciano che svolgano un compito una mansione per potermi facilitare la vita che può essere vivere in modo più tranquillo nella mia casa singola con giardino proteggere i miei animali dal dei predatori la morfologia funzionale può solo essere una quella che ha creato la natura laggiù dove invece io creo un altro ambiente dove in tutte le razze non li faccio lavorare ma inizio a misurarli li porto le esposizioni voglio raggiungere degli standard e voglio che qualcuno mi dica se il mio cane più bello del mondo anche lì l'ambiente modifica la genetica perché non è più l'ambiente rurale ambiente lavoro è un ambiente fatto di cortili di gabbie di cani che viaggiano sui furgoni di cani che devono essere pazienti e socievoli per aspettare di essere giudicati attenzione perché andare invertire queste cose e mi riferisco specialmente a quelli che magari vedono un cane esposizione poi interessa quella razza perché la leggono ovvero leggono tutte le sue qualità e le capacità la vogliono può impiegare nel lavoro non sempre anzi quasi mai potrebbero ottenerne risultati viceversa è assolutamente possibile che quelli che ormai hanno creato un prototipo di cane l'hanno standardizzato hanno deciso non per il lavoro ma per dei canoni dei criteri che hanno inventato i giudici cinofili la politica cinofila quella che io chiamo la cinopolitica ecco che magari questi potrebbero risultare perdenti e ne ho proprio avuto la conferma in questo mio viaggio che in teoria non aveva niente a che vedere quei posti dove ero sempre andato ma invece poi sono saltati fuori verità veramente importanti quindi prima di iniziare poi i miei video non solo dalla domani della prossima settimana e seguire la serie vi volevo fare questa premessa anche per salutarvi e dirvi che ricomincieremo i nostri contatti bene vi ringrazio tanto per avermi seguito vi auguro a tutti buona giornata a presto